I tempi del pubblico non sono compatibili con le aspettative di chi in due ore si è visto azzerare i risparmi di una vita, privati e delle proprie attività d'impresa. La sensazione è di abbandono, solo 194 mila euro nelle casse del Comune, a fronte del milione di euro speso solo per le somme urgenze. Quasi 200 mila euro arrivati che rappresentano solo il 30% del necessario per mettersi a paro con i soldi stanziati dal Comune e pagare le ditte che si sono occupate del pronto intervento post alluvione. Accelerare i tempi è fondamentale, il rischio è la desertificazione e lo spopolamento. Null'altro è arrivato, stiamo attendendo i contributi alle privati cittadini, abbiamo 136 prime abitazioni compromesse. Quei contributi iniziali intanto che fanno capo alla protezione civile nazionale di 5 mila euro per i privati cittadini, così come stiamo attendendo i 20 mila euro per le attività d'impresa come contributo e come ristoro parziale. Non solo privati cittadini ed imprese, le somme attese riguardano anche il patrimonio pubblico. Cantiano quantifica oltre 55 milioni di euro di danni al patrimonio pubblico. Piogge come quelle della settimana scorsa rendono queste somme primarie. L'attesa deve terminare per smettere di avere paura. Danni che non possono essere rinviabili. Alcuni stanno diventando emergenziali. Abbiamo visto dieci giorni fa come una pioggia ordinaria rimetta a rischio l'incolumità delle persone, delle nostre attività di imprese, perché il territorio non è più sicuro.